a vera tutt con l'asterisk allora non ne ho parlato ma qualche giorno fa dexter jackson aveva postato alcune storie dicendo che il risultato p o s i t i v o a quello che sappiamo bene e quindi stava un po lamentando non credete a quelli che dicono che non esiste bla 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 cioè stava dicendo fondamentalmente stava sudando un sacco e cambiava un sacco di di magliette adesso a quanto pare è sopravvissuto incredibilmente perché a quanto pare si può sopravvivere così come big grammy cioè è sopravvissuto e in più ha vinto anche il mister olimpia quindi ottima cosa che si possa sopravvivere a determinate cose comunque dexter si bulla un po del fatto che sia in pensione ha postato queste storie dove in veranda a casa sua tutto contento e dice che è contento di essere in pensione che non tornerà comunque il bodybuilding e dice mi sto svegliando tardissimo tipo alle 10 del mattino anziché svegliarmi alle 7 per iniziare a mangiare infatti lo vedete come contento di quello che sta dicendo sta dicendo proprio questo non vedeva allora come avevo detto anche altre volte come va detto lui stesso la conferenza stampa pre mister olimpia dice che si sta svegliando molto tardi sta andando a letto tardi così che può anche evitare di mangiare poi se vi ricordate aveva espresso un desiderio in quell'intervista con dei qualumbo sull'ex muscle prima del mister olimpia dicendo forse vado in brasile però mi ritiro quindi non si capiva che anche però da questo che sta postando sembra che sia ben convinto della sua decisione non mi sembra molto intenzionato a fare marcia indietro e poi sta sponsorizzando ovviamente la sua linea di integratori che si chiama dexter subs se non sbaglio avete visto che la taggata qui andiamo a vederci un po dexter jackson signature series che dice coming soon chissà quando arriverà questa foto di dexter ovviamente nel 2008 dopo la vittoria del mister olimpia poi io sinceramente non so non sono un gran fan di integratori nel senso servono sicuramente integratori però mi sembra che ci sia una quantità sproporzionata di case di integratori e mi chiedo ma come mai tutti questi bodybuilder aprono case di integratori se poi ricordate anche kai green aveva aperto la sua dynamic muscle se non sbaglio si chiama così però alla fine quanto è durata la dynamic muscle ben poco tempo perché sappiamo che si è poi deciso a unirsi alla red con one quindi mi chiedo ha senso creare un ennesima linea di integratori spendere un sacco di soldi anziché magari godersi un po la pensione tra virgolette visto che dexter ha 50 anni e investire magari in qualcos'altro perché se poi questi queste case integratori dura il tempo bo di due annetti alla fine tutti quanti ne hanno philip ha una di integratori kai green avevano l'integratori che villevron ha una linea integratori fu ad abbiata una linea integratori cioè un bodybuilder su 34 hanno una linea integratori 2 e 8 c'è la sua di why nutrition e alla fine mi chiedo ma cioè c'è tutta questa gente che può comprare da tutta questa da tutti questi bodybuilder questo mi chiedo più che altro è infatti molte di queste linee falliscono entro pochi anni ovviamente non glielo auguro minimamente una cosa del genere a dexter però non so fatemi sapere voi che ne pensate cioè a me sembra che la l'offerta sia enormemente superiore alla richiesta però ovviamente io gli auguro il meglio perché non voglio sembrare negativo è giusto una considerazione poi ditemi voi che ne pensate di di questa cosa a me sinceramente sembra che ci sia un po troppa roba in generale però magari io se fossi stata posta di dexter avrei detto continua a farmi coaching a scoppio che tanto sono dexter jackson avrò un sacco di richieste posso fare un sacco di soldi senza spenderne in quel senso cioè posso fare molti soldi senza spendere con spese varie ed eventuali che la creazione di una linea di integratori ovviamente necessita questo quello che sto dicendo io poi adesso sono anche curioso di vedere come diventerà la dexter perché immagino diventerà più piccolo nel senso meno grosso non dovendo mangiare così tanto non avendo voglia di mangiare così tanto magari si allena di meno non dovendo gareggiare sono curioso un po per tutte queste evoluzioni del post dexter jackson bodybuilder sono curioso soprattutto di vedere se si allenerà se avrà ancora voglia di allenarsi però direi che possiamo salutarlo con piacere dal palco io non penso che lo rivedremo fatemi sapere anche che ne pensate voi se pensate che lo rivedremo grazie per il like per le iscrizioni per le donazioni buona